Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci hanno fatto compilare un questionario sulla sicurezza stradale e abbiamo ricevuto anche dei gadget. Pensiamo che sono delle cose, insomma, iniziative ottime in questa situazione. Benvengano queste iniziative per la sicurezza. Per i giovani, soprattutto. Beh, 67 anni di pulizia stradale ne avete fatta di strada. Non rischio perché? Attività di informazione, ma anche controlli. Controlli nelle ore notturne, controlli quando i giovani escono, quando i giovani si divertono. Devono divertirsi, ma sempre con la massima attenzione per una guida sempre sicura e rispettosa delle regole. Grazie. 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 Grazie.